è attaccato bene? sopravvivo? ora cazzo che stretto andiamo venga signori nazi oh mio dio vieni sul mordo pronta? no meno 3, 2, 1, vai un secondo, un secondo oh dio 3, 2, 1 vai, vai, vai perfetto super bello che figo mamma mia mamma mia cacchio madonna mamma mia che figata ciao madonna che veloce ciao a postissimo ciao ciao che figata è durato troppo poco aiuto aiuto Grazie a tutti.